non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone da yeh bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un bel po di novità per quello che riguarda il nostro fortnite che piano piano ora dopo ora 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 dopo ora giorno dopo giorno sta per raggiungere il termine della sua season 1 di questo capitolo 2 5 giorni essi ragazzi ve lo ricordo ancora il 20 febbraio finalmente arriverà la season 2 e speriamo di vederne delle belle nel video di oggi però parleremo di una cosa molto incredibile e a quanto pazzesca per quello che riguarda i 1200 v bucks che epic games ha deciso di dare ad alcuni di voi vado a spiegarvelo meglio più tardi sono tantissimi ma parliamo anche dell'evento mancato di questa season numero 1 insomma l'evento oro ci sono delle piccole novità quello che doveva succedere non è successo e probabilmente non si sa se succederà ma andremo a vedere dei dettagli che non vi ho ancora mostrato e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live sulla piattaforma viola dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul mio video delle 13 e 30 prima la domandina raga mi rispondete sempre in tantissimi e vi ringrazio i vostri commenti sempre qua sotto domandina di oggi molto interessante ma secondo te qual è la skin più brutta di fortnite e qua si apre un bel dibattito è ne hanno fatte tante belle ma ne hanno fatte anche alcune che non erano proprio chissà che cosa la più brutta secondo te qual è per chi mi conosce lo sa secondo me ragazzi la più brutta e valore non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio è inguardabile ciao ciao dai non gli hanno fatto le sopracciglia punto primo sembra uno ieti donna c'è una capigliatura che non sparato i mortaretti in testa e hanno avuto il coraggio di dargli pure la rarità leggendaria reputo che valore sia per me la skin più brutta in assoluto dimmi qual è la tua qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e non mi parte il coso e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere il primo argomento di oggi quello appunto più interessante insomma i v bucks ed è un comunicato ufficiale di fortnite un tweet per la precisione che dice se è arrivato più del livello 100 e ancora non hai preso il pass battaglia aperta parentesi ciula questo non lo dicono loro se adesso prendi il pass battaglia ti ridiamo 1200 v bucks ovviamente aggiungerei perché sembra una notizia della madonna ma in realtà 1200 v bucks sono esattamente i v bucks che si possono ottenere prendendo il pass battaglia quindi è vero che ci sta un botto perché tu ne dai 950 e ne recuperi 1200 se sei bravo e non e non te li scioppi sulle skin ogni volta puoi avere il pass battaglia ora sei un po persa via questa cosa perché sono cinque mesi che c'è questa season e il pass battaglia l'abbiamo finito tutti a novembre quindi ci sta è una bella cosa approfittatene se non l'avete ancora fatto pigliatevi sto pass battaglia e avete già i v bucks per il successivo e non mi parte mai la roba e non so perché ma andiamo avanti ragazzi che aspetti è finito boh non si sa andiamo avanti ragazzi invece a parlare di un altro argomento molto interessante che riguarda una delle figure che si conoscono nella community di fortnite sto parlando di motor Fnatic motor per la precisione che da poche ore ha lasciato i Fnatic quindi non si chiamerà più con il tag Fnatic e lui dice io ho ufficialmente lasciato il team dei Fnatic non sto cercando un'organizzazione che mi paga e basta e non fa niente in poche parole del gioco di fortnite perché io ci tengo sto cercando un'organizzazione che io possa chiamare famiglia stare bene e poter aiutare la famiglia nuova ovviamente nei suoi obiettivi sotto replica nuovamente dice i Fnatic non mi hanno chiccato perché non ci avevano soldi semplicemente non condivido più le idee che questo team sta adottando nei confronti di fortnite Fnatic uno dei team più importanti ovviamente a livello mondiale soprattutto per il periodo 2018-2019 dove fortnite è esploso su tutto il pianeta e quindi ragazzi una notizia che per i fanatici di fortnite vale la pena di sapere non riesco a far partire l'animazione quindi andiamo avanti con il prossimo argomento con il prossimo argomento di oggi che in realtà è l'ultimo argomento del video e oramai lo stiamo conoscendo giorno dopo giorno sempre di più oro si chiama questa skin che come vedete è uno scheletro dorato con tanto di corona e pendagli insomma pesa più il pendaglio nello scheletro stesso perché è importante questa skin perché oro fa parte di un evento sì ma di un evento che purtroppo è mancato su questa season di fortnite lo abbiamo scoperto per la prima volta nella patch 11.40 e abbiamo visto anche un'altra cosa anzi vi faccio vedere delle immagini e poi uno spezzone queste praticamente sono immagini che riprendono la casa centrale dell'isolotto quello esattamente a centro mappa e come vedete avrete notato che sia il divano sia il mappamondo sono totalmente ricoperti d'oro andando avanti nella casa troviamo altri oggetti ricoperti completamente d'oro di nuovo un divano una televisione poi l'oggetto più importante che non è il water ma è quello che c'è sopra il water sì perché quel bloc notes in realtà non è una semplice decorazione ma è proprio un oggetto inserito già nei codici sorgenti di forte quindi sicuramente avrà una certa importanza nell'evento voglio farvi vedere innanzitutto però quello che succede o meglio che dovrebbe succedere nella parte centrale della mappa vi lascio un attimo al video come avete visto ragazzi ci sono appunto delle degli oggetti completamente ricoperti d'oro che non si possono distruggere se avete fatto attenzione nella parte in basso a sinistra c'è scritto stage 5 sì perché in realtà sono cinque varie fasi di trasformazione degli oggetti nella casa su questo è sicuro il problema è che non si sa questo evento quando arriverà a questo punto potrebbe essere la base della storyline della prossima season io sinceramente non ho neanche capito la storyline di questa season a parte il discorso gli opposti si attraggono no uno contro l'altro cameo vs chic slime vs slime insomma le skin del pass battaglia che hanno un dottor jekyll e un mister hide ma sinceramente non riesco a vederci notevolmente il nesso con l'evento oro quello che sappiamo ragazzi è che la pazienza e l'attesa potrà sicuramente saziare la nostra curiosità insomma io vi ringrazio anche per oggi per avere guardato le news di fortnite mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi ci vediamo in live anzi sono già in live sulla piattaforma viola ciao 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 ciao